Volevo, per invogliare all'ascolto di questo racconto che io trovo molto bello, l'isola sconosciuta di Saramago, racconto poi scritto in chiave molto simbolica, con molti simboli, molte metafore, insomma, quindi una fiaba per adulti, non per bambini, che quindi necessita di una interpretazione. Volevo leggervi come prima cosa due righe che ho trovato su una chiave di analisi jungiana di questa fiaba, e poi magari fare anche due considerazioni io. Chiedere al re una barca per cercare l'isola sconosciuta significa intraprendere il viaggio più difficile, quello che è difficilissimo riuscire a fare fino in fondo, verso quell'isola sconosciuta che sempre siamo noi stessi. La ricerca dell'isola sconosciuta appare subito inevitabilmente votata alla sconfitta, ma già la predisposizione alla ricerca è in qualche modo esserci. È un sogno che si confonde con la realtà fino al colpo di scena finale, essi stessi, isola alla ricerca di se stessi. In questa fiaba l'uomo chiede al re, che rappresenta il potere, la propria coscienza, di avere a disposizione una barca, la propria vita, per poter navigare sul mare attraverso il proprio inconscio, alla fine di trovare l'isola sconosciuta, cioè se stesso. L'uomo vuol conoscere se stesso, passando attraverso le strade dell'inconscio. L'uomo che voleva una barca, insieme con la donna delle pulizie, va alla scoperta dell'isola, di quella parte di sé che vuole conoscere. Un'isola sconosciuta, di cui comunque ha paura, ma che imparerà a conoscere pietra dopo pietra. Fiore dopo fiore, stagione dopo stagione. Un amore è germogliato, quando ormai la terra era matura, per accogliere i semi e farli diventare frutti. Il loro amore è in balia delle onde, come una barca durante una tempesta. E imparerà a stare in mare, a sopravvivere ai capricci del mare. Si nutrirà e crescerà con le tempeste. E sorriderà di chi si accontenta di esplorare solo le isole che sono sulle cartine. Perché ha paura di scoprire che l'isola sconosciuta esiste. Esiste? E solo chi ha il coraggio di navigare in mare aperto la può trovare. E in questa fiaba si assiste, senza rendercene conto, all'incontro tra l'uomo e la sua anima. Incontro tra logos ed eros. Per comprendere fino in fondo questa fiaba, come ogni mito, dobbiamo avvicinarci al mondo simbolico. E come afferma Jung, il simbolo si situa proprio in una presa di coscienza delle realtà ancestrali contenute nell'anima umana. Archetipi dell'inconscio collettivo. Una parola o un'immagine è simbolica quando implica qualcosa che sta al di là del suo significato ovvio o immediato. Essa possiede un aspetto più ampio, che non è mai definito con precisione o compiutamente spiegato. Né si può sperare di definirlo o spiegarlo. Quando la mente esplora il simbolo, essa viene portata a contatto con idee che stanno al di là. Delle capacità razionali. E' spazio per l'intuizione individuale, insomma. Ognuno se lo rappresenta, secondo anche le sue esperienze. Con questo presupposto andiamo ora a cercare i simboli che in questa fiaba, come in altre, ci danno la possibilità di comprenderne il significato. Il viaggio nel mito e nella fiaba rappresenta sempre il rischio di perdita, ma anche possibilità di conquista. Può essere speranza di ritorno, ma anche abbandono angoscioso dell'ignoto e del resto. Se andiamo a ricercare, ci rendiamo conto che il mito del viaggio offre uno dei nuclei più importanti attorno ai quali la cultura occidentale ha narrato il senso della vita. Il viaggio di Saramago alla volta dell'isola sconosciuta è metafora del viaggio dell'uomo verso la conoscenza di sé. Viaggiare è il viaggio della vita, ecco che il compagno di viaggio, figura femminile che apre la porta delle decisioni, diviene ombra, anima. Ecco che la barca, la caravella data dal re, diviene isola, cioè noi stessi. Viaggiare è un'immagine dell'aspirazione, dice Jung, del desiderio mai saziato, che in qualche modo trova il suo oggetto. Il viaggiatore fa esperienza del negativo. La notte, gli inferi, il labirinto, la prigionia, le prove e le tappe del viaggio rappresentano riti di purificazione necessari per l'evoluzione di chi le attraversa. Il viaggio per sonno non è mai un semplice spostamento nello spazio, andare da un punto all'altro, ma nasce da un desiderio di ricerca e di cambiamento. Gli eroi sono sempre viaggiatori. Tutta la letteratura è costituita di racconti di viaggio, perché non si viaggia solo attraverso gli spazi, ma anche attraverso il tempo. Tutta la vita dell'uomo può essere considerata un viaggio, con una serie ininterrotta di tappe, di incontri, insieme ad altri compagni di viaggio, alla ricerca della felicità. Ma non esiste felicità se non nella conquista dell'immagine vera di sé, se non nei termini di una personale realizzazione dell'uomo di quelle esigenze profonde, di quelle domande, di quelle aspirazioni originarie che non ci abbandonano mai, da cui la natura umana è contrassegnata fin dalla sua origine. Un elemento simbolico presente in questa fiaba è il castello, che rappresenta con il re la maschera sotto cui si nasconde l'archetipo della persona. Il castello, nelle fiabe, è una costruzione che spesso ha carattere misterioso, intrigante, e che stimolando la curiosità invita alla scoperta. Il castello è un microcosmo che nella psiche umana rimanda a tutto ciò che è fortificato, inaccessibile, isolato, difeso, pauroso, misterioso, ignoto, ma anche a tutto ciò che è stato sognato, fantasticato, che è desiderabile, prezioso o da conquistare. Il castello può allora rappresentare una sfida, un miraggio, un tentativo di realizzazione, una ricerca di compiutezza che può tradursi in un percorso interiore o nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi che può rivelare la necessità di realizzazione personale. Il castello è quindi un luogo dell'anima e del bisogno di ricongiungimento, di evoluzione, di ricerca di perfezione ed è qui che l'uomo incontra la sua anima. Il re nelle fiabe appare sempre come un simbolo del sé, essendo quest'ultimo il centro del sistema di autoregolazione della psiche da cui dipendono equilibrio e benessere del soggetto. Il re, proprio perché è un simbolo del sé, deve però necessariamente evolversi, contattare il proprio livello inconscio dell'assenza di relazione da parte di quest'ultimo con gli elementi inconsci e razionali che sono alla base del rinnovamento. Ma nella nostra fiaba appare come un elemento, il re, che vuole rimanere relegato nella sua posizione di persona, cioè ha paura di incontrare la propria ombra, la propria anima. È pura forma, senza essenza, senza sostanza. Il re ama stare davanti alla porta degli ossequi dove le lodi dei sudditi tengono lontana la sua ombra e lui è gratificato nella sua persona, nella sua immagine. Noi siamo come isole, picchi emergenti dalle acque e quello che è illuminato dal sole è la nostra consapevolezza. Sotto il pelo dell'acqua sta il nostro subconscio, più sotto c'è l'inconscio individuale dove noi abbiamo rimosso quelle parti di noi o del nostro vissuto che non vogliamo vedere. La figura della donna delle pulizie rappresenta l'elemento femminile dominante della coscienza collettiva, il femminile ed individuale e dunque rappresenta il sentimento, gli elementi irrazionali. All'inizio della fiaba la figura della donna è presente in maniera estremamente marginale. La donna che nel castello apre e chiude le porte del re è comunque totalmente assoggettata al volere del re. Chiusa nel castello essa viene presentata come semplice esecutrice della volontà del re. Figura maschile il re l'espressione del vecchio saggio grande madre. Si può dunque ipotizzare il fatto che manchi la volontà di rinnovamento nel re perché la coscienza collettiva rappresentata dal re ha perduto il contatto con il principio dell'eros con l'irrazionale con il femminile e si è dunque pietrificata ed irrigidita nel terrore del nuovo. Conservare le proprie difese le proprie barriere e quindi il proprio ruolo il proprio potere non si vuole mettere in discussione con quello che può emergere dal profondo. Una buona parte degli eventi significativi delle fiabe si svolgono nella foresta che è una delle rappresentazioni simboliche ricorrenti dell'altro mondo del mondo dell'inconscio. La foresta è un femminile simbolico un femminile ancestrale originario e naturale. L'acqua del mare è il simbolo dell'inconscio per eccellenza con tutti i contenuti rappresentati da tutti gli esseri che vivono nelle sue profondità. Noi tutti abbiamo navigato nel mare uterino delle nostre madri e l'acqua ci ricollega ad uno stato in cui non ci sentivamo ancora separati dal grande universo. Il mare è quindi un grande simbolo dell'inconscio. Nella fiaba è una grande profondità abissale al di sotto del visibile. rappresenta la forza inconscia biologica da cui la coscienza è andata via. Mare è quindi come acqua primordiale alle origini della vita rappresenta la grande madre di ogni forma di esistenza. La barca è sempre stata non solo un veicolo uno strumento ma anche compagna dell'uomo espressione di un archetipo colui che ci porta nel nostro viaggio terreno da una sponda all'altra. L'io che nel viaggio individuativo deve confrontarsi e relazionarsi con le intemperie che il destino ci pone sul nostro viaggio. La vela è un'immagine che parla molto perché si muove con il vento e nessuno può comandare il vento che è il simbolo del destino colui che interferisce nel dialogo tra mare barca e vela. Capita per esempio che un vento contrario ci costringa a rinunciare almeno temporaneamente a raggiungere un dato porto proprio come con certi obiettivi che ci fissiamo nella vita. In altri casi siamo costretti a circunnavigare un'isola proprio come dobbiamo spesso girare attorno a ciò che vogliamo ottenere. Mare, vento, barca simboleggiano quindi i fattori che si intrecciano per formare una vita e di cui dobbiamo assolutamente tener conto. Giungere allo stadio della coscienza è un fenomeno complesso. Infatti niente avviene per caso ma dobbiamo seguire un preciso processo evolutivo che ci conduce a diventare noi stessi. Ciò avviene per tappe in un percorso che Jung chiama di individuazione. La meta del viaggio è rimuovere la maschera che ci siamo creati persona il re per sopravvivere ed emergere nel mondo e giungere a comprendere il significato profondo delle relazioni. Il significato profondo delle relazioni. Nessun uomo è un'isola. l'essenza dell'uomo può essere espressa soltanto attraverso un racconto un mito. Vediamo che il personaggio il postulante che si presenta al castello del re è molto determinato nel chiedere no? Resta fermo davanti alla porta anche per tre giorni e soprattutto vuole parlare direttamente con il re non vuole intermediari non vuole burocrazia in mezzo vuole andare direttamente a chi detiene il potere il suo referente vuole che sia quello diretto del re e non chiede favori non chiede benefici come tutti gli altri postulanti ma chiede al re gli strumenti per realizzare la propria vocazione per andare incontro al proprio desiderio vuole la barca quindi per trovare anche il proprio posto nel mondo il riconoscimento di questo desiderio è quello che anche lo rende audace lo rende coraggioso lo rende come dire capace di restare tre giorni in attesa pur di parlare con il re non c'è stato un altro che gli ha suggerito queste cose è un'esigenza che proviene da di dentro dall'individuo non c'è stato un messaggio messianico un messaggio ideologico e quando va dal re non chiede né marinai né pilota insomma questa barca non chiede che sia guidata da altri né che sia condotta gestita da altri vuole solo lo strumento che gli permetta di compiere questo viaggio per arrivare per arrivare alla propria individuazione e non è sicuro che quest'isola che non c'è si farà conoscere ma è sicuro che il re gli darà lo strumento per poter fare questa ricerca perché perché lo strumento poi alla fine è lui è la sua volontà e i requisiti che deve avere questa barca che sappia navigare che sappia stare a galla e che sia sicura l'uomo quindi abbiamo detto è deciso quando fa questa richiesta e la donna delle pulizie del re che ascolta e che lo vede stare lì per tre giorni capisce questa sua determinazione capisce la sua volontà il suo desiderio di farlo e viene contagiata da questo desiderio immediatamente sente lui sente lui una forza che che la contagia in quel momento si sente portata sente un fascino verso questo individuo e questo fascino fa sì che lei prenda immediatamente la decisione capisce che la sua vita non era quella di stare lì nel palazzo del re ma è quella di seguirlo è un fascino che ha a che fare con con l'amore con l'eros lo segue e lo affianca stando discretamente al di fuori cioè lo lascia agire ma intanto lo segue quando si tratterà di scegliere la barca lei l'avrà già individuata prima di lui sarà quella lui sceglierà quella che in qualche modo piace o è già piaciuta a lei il femminile in questo caso è appunto come si diceva prima l'istinto la capacità di intuire immediatamente ciò che è bene ciò che è da fare e di non frapporre la ragione al sentimento quindi la capacità di uscire immediatamente dalla porta della decisione e di affidarsi all'istinto di affidarsi alla diciamo alla scelta una volta che se ne è subito il fascino è un ruolo servile in qualche modo questo però è un ruolo che è servile la donna delle pulizie già nella sua cosa poi lavare la barca pulire eccetera fare queste cose qua però è anche un luogo è anche una figura che è intenta all'alimentazione per esempio sa provvedere sa rendere questa barca funzionale sa pulirla da tutti gli accessori gli ingombri gli uccelli le cose queste cose che erano ristagnate su questa barca che le avevano ingombrate tutte le come dire tutte le le questioni tutte gli ingombri della personalità che si erano accumulati nel tempo perché non si era mai intrapreso questo viaggio si era sempre rimasti persone quindi maschere quindi qualcosa di contaminato dall'esterno che non aveva ancora fatto un processo di individuazione ecco la figura il femminile è questo qualcosa che immediatamente capisce le necessità che immediatamente capisce la necessità di fare pulizia e anche che immediatamente capisce la necessità di provvedere di provvedere poi a quelli che sono i bisogni primari e che sono quelli dell'alimentazione non per sé ma anche dei possibili naviganti che poi si rifiuteranno di entrare nella barca perché preferiranno a questo viaggio le comodità delle sicurezze insomma delle cose formali perché questo viaggio nell'ignoto alla ricerca di se stessi è un viaggio faticoso che non si sa dove porta è un viaggio verso una località appunto sconosciuta quindi la donna individua subito la barca ma aspetta aspetta che sia lui a sceglierla è un viaggio quando lo si affronta che si fa sempre per la prima volta in qualsiasi si impara viaggiando non si è mai imparato a fare questo tipo di viaggio però ci vuole una barca che si rispetti e che sappia rispettare me dice l'autore quindi il rispetto reciproco il potere della parola se parlo come un marinaio è come se fosse un marinaio a un certo punto dice in una frase alla fine scriveranno il nome isola sconosciuta nei fianchi della barca in bianco e e con questa scritta questa barca diventerà l'isola sconosciuta alla ricerca di se stessa quindi una parola creatrice significante importante a volte strada facendo si naufraga però anche il naufragio segna un punto di arrivo e se qualcuno naufraga qualcun altro potrà ripartire da quel punto per cui c'è questa richiesta dovreste scrivere il punto in cui sono arrivato i tentativi individuali sono poi dei punti di partenza anche quando falliscono per altri tentativi che magari porteranno più avanti e anche nel naufragio c'è un punto di arrivo si arriva sempre da qualche parte chi vuole compiere questo viaggio e la ricerca di se stesso è sempre si trova sempre isolato rispetto agli altri e questo mare in cui si deve avventurare è un mare tenebroso è un mare di cui non si può parlare visto che ancora non lo si conosce ma si sa che c'è quando però si è stabilito il rapporto con l'altro in questo caso con il femminile questo aspetto tenebroso in qualche modo scompare in questo momento di tenebroso non vedo nulla voglio trovare l'isola perché voglio sapere chi sono quando ci sarò e perché se non si esce da se stessi non si può sapere chi si è e in questo caso anche l'altro è lo specchio attraverso il quale riusciamo a vedere e a individuare noi stessi abbiamo bisogno dell'altro perché ci offre di rimando l'immagine di noi stessi possiamo individuarci anche attraverso l'altro se non esci da te stesso quindi se non ti rapporti con l'altro se rimani sempre ancorato alla tua immagine narcisistica non capirai mai chi sei la tua immagine ti inganna quindi non ci vediamo se non ci allontaniamo tra noi e l'altro in questo caso la donna delle pulizie è lo strumento attraverso il quale poi il protagonista si può individuare un po' alla volta il postulante il protagonista di questa fiaba riconosce questa donna lui che prima era tutto proteso insomma a cercare l'equipaggio a guardare la nave a chiedere al re insomma si accorge di questa figura femminile e scopre che è bella arriva in ritardo perché la gionna aveva già pensato tutto ancora quando lui era al castello e non aveva esitato a prendere la decisione ma l'inizio del rapporto tra l'uomo e la donna spesso è fonte di incomprensione scopre che è bella quando quando si accenderà la candela e lui la la vedrà direttamente il lume di candela e lei invece pensa che lui si è preoccupato solo del suo viaggio e non si accorge che che lui l'ha l'ha riconosciuta insomma l'ha individuata e l'altra resistenza continua ad essere quando si tratterà di andare a dormire e ognuno andrà in una direzione separatamente non ci sarà il coraggio io vado da questa parte e Dio dall'altra si vorrà il sogno questo sogno molto bello questo equipaggiamento questa dotazione di animali nella nave e dove in questo sogno si scopre quest'isola sconosciuta si arriva addirittura alla alla semina alla confusione tra l'elemento di terra e l'elemento di mare la nave nella nave cresce crescono gli alberi le piante lui addirittura sta per seminare un grano qualcosa e poi e poi niente si scopre che era un sogno ma la realtà poi la si ritrova nelle cabine nel momento in cui non c'è più la distinzione tra babordo e tribordo nel momento in cui si ritrovano abbracciati il finale della fiaba è interessante semplice ma non banale il protagonista l'isola l'ha trovata e anche la donna delle pulizie di corte ha trovato ciò che non sembrava cercare e lo hanno trovato svegliandosi abbracciati perché la realtà poi è nelle cabine anzi in una cabina della barca e l'isola sconosciuta è in un abbraccio è in un abbraccio